Un saluto a tutti voi e ben ritrovati come sempre qui sul mio canale dal vostro tenore informatico. Abbiamo visto il video precedente all'installazione o aggiornamento di Windows 11 24 H2 in computer che hanno ovviamente i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento. Però in tanti mi hanno fatto questa domanda se è possibile eseguire l'aggiornamento o l'installazione su computer datati. La risposta a questa domanda è un sì, lo confermo pienamente però bisogna fare una modifica utilizzando il nostro carissimo Rufus ovvero modificare il sistema un file all'interno della ISO che permette così di bypassare i requisiti minimi di sistema. E in questo video ti faccio vedere la guida completa su come eseguire l'aggiornamento senza perdere i tuoi dati oppure eseguire l'installazione pulita nel tuo computer vecchio che non ha i requisiti di sistema. Iniziamo subito con questa guida. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto andiamo su Chrome, scarichiamo la ISO di Windows 11 dal sito di Microsoft, la ISO 24 H2 ufficiale dal sito Microsoft e scarichiamo la seconda voce scarica ora ovvero lo strumento per la creazione di supporti. Evitate come già detto nel mio video precedente di scaricare direttamente la ISO perché vi dà errore, un problema del server di Microsoft. Scarichiamo subito lo strumento creazione di supporti e andiamo ora a scaricare e procurarci Rufus. Scarichiamo l'ultima versione del software alla 4.5. Perfetto abbiamo fatto, chiudiamo la pagina di Chrome, abbiamo i nostri file necessari per eseguire la modifica e avere una ISO 24 H2 ufficiale senza i requisiti di sistema installabile su un qualsiasi computer datato o recente. Cosa dobbiamo fare adesso? Doppiù clic sull'assistente di aggiornamento di Windows, all'apertura di questa finestra ci permetterà di andare a creare una chiavetta USB sconsigliato oppure scaricare la ISO. Accettiamo le condizioni, andiamo avanti, selezioniamo file ISO, sempre avanti, decidiamo il percorso dove salvare la nostra ISO, io preferisco il desktop e clicco su salva. In questo momento si sta preparando per scaricare l'ISO della 24 H2 di Windows 11, aspettiamo alcuni minuti e ci vediamo tra poco. Bene, la ISO è stata appena scaricata nel mio computer come potete vedere, eccola qua. Ora ci serve un programma per fare l'estrazione della ISO, io mi affido sempre a WinRar. Vado su Chrome per scaricare l'ultima versione del software, clicchiamo qui dove dice 64 bit preleva, chiudo Chrome, avviamo il software per l'installazione, doppio clic. Importantissimo, come già detto nel video precedente, mettiamo la spunta su ISO per eseguire l'estrazione della ISO di Windows. Una volta fatto, clicchiamo su OK per avviare l'installazione. Chiudiamo WinRar. Adesso possiamo fare l'estrazione e capiremo dopo il perché di questo. Destro del mouse, andiamo su WinRar, estrai i file in Windows per creare una cartella con tutto il contenuto estratto. Una volta fatto questo, entriamo nella cartella di Windows. All'interno della cartella, entriamo nella successiva cartella o sottocartella di Source. E cerchiamo questo file. Apreis.rs.dll, questo è il file che impedisce l'aggiornamento o l'installazione su computer datati ed è responsabile dei requisiti minimi di sistema. Questo file non va assolutamente eliminato o modificato. Aprendolo con il blocco note, al suo interno troveremo tutte queste scritte incomprensibili. Quindi lasciate le cose come stanno e per creare una ISO modificata utilizzeremo Rufus che ci permetterà di installare o aggiornare su PC datati l'ultima versione Windows 11 24 H2. Lasciamo le cose come stanno, apriamo Rufus, doppio clic. Clicchiamo su Seleziona per inserire la ISO di Windows 11 24 H2, doppio clic. Se si tratta di un computer datato, impostate come schema partizione MBR oppure GPT per BIOS Wifi. Mi raccomando, la chiavetta USB deve essere già inserita nel proprio computer, almeno una chiavetta da 16 GB. Clicchiamo su Avvia. Si apre questa schermata, già selezionata con la rimozione dei requisiti, la rimozione requisiti per l'account di Microsoft e il disabilità raccolta dati. Clicchiamo OK per confermare queste scelte, in modo da creare la nostra ISO senza i requisiti di sistema. Clicchiamo su Sì per avviare la scrittura su chiavetta USB. Confermiamo OK e, come sempre, ti ricordo che tutti i dati nella chiavetta si perdono. Confermiamo e andiamo avanti. Ci vediamo dopo l'installazione su chiavetta. Installazione conclusa. Chiudiamo Rufus. All'interno della chiavetta USB ci spostiamo nella cartella Source. Apriamo nuovamente il file di prima. Chiede appraisrs.dll. Doppio clic, apriamolo con il blocco notte e vediamo che all'interno del file non c'è proprio niente. Tutto il contenuto scritto è stato rimosso. Chiudiamo la finestra. A questo punto, finalmente, possiamo eseguire l'aggiornamento della 24H2 ufficiale. Per farlo basta seguire il mio video precedente e seguire tutti i passaggi. Doppio clic sul setup. E da qui in poi possiamo fare l'aggiornamento senza perdere i nostri dati, mantenendo tutte quelle impostazioni, applicazioni e dati personali. Nel caso, invece, vogliamo fare l'installazione pulita, basta riavviare il computer, entrare nel BIOS e, dalla sezione del boot, avviare come primo avvio la chiavetta USB. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo mio video e vi ricordo, come sempre, l'iscrizione al canale di Tenore Informatico e di lasciare un bel mi piace a questo video. Noi ci vediamo alla prossima da Tenore Informatico. Ciao a tutti!